Da Disney Video giunge il più grande degli eroi Disney, Hercules. Era figlio degli dèi. Mio figlio. E c'è un lecca-lecca per il nostro blocco. E' compato. Costretto a vivere da mortale. L'ho preso! No, fermati! Per poter tornare sul Monte Olimpo. Ercole, se ti dimostrerai un vero eroe sulla Terra, tornerai ad essere un dio. Non ti deluderò, padre. Dovrà battersi contro le forze del male. Sono Ade, dio dei morti. Ciao, come andiamo? E imparare cosa significhi essere un vero eroe. Il mio pupazzo va ruba. Perché un vero eroe non si misura dalla forza che possiede, ma dalla forza del suo cuore. Dai realizzatori di Aladdin, le travolgenti avventure. Le trascinanti musiche. Tutto, ragazze! Dele irresistibili risate. Del trentacinquesimo classico Disney. Hercules, un eroe, un mito. Presto in videocassetta. Mi aspetto ai capelli.